Come preannunciato nei giorni scorsi siamo intervenuti in maniera tempestiva su due ville comunali che necessitavano interventi di pulizia, riordino di serbo e manutenzione straordinaria. Abbiamo affrontato sia ieri che oggi la questione delle vasche su Villa Sperlinga e al Roseto Balistreri e stamattina una squadra della Reset che ringrazio è intervenuta per un'operazione di pulizia complessiva della Villa Sperlinga. Siamo attenti al decoro e alla funzionalità delle nostre ville che devono essere a pannaggio dei nostri cittadini nelle migliori delle condizioni. Le affronteremo una per una con un piano che stileremo insieme a Villa e Giardini in Rapp e Reset.